Ciao da Luci, è un po' che non ci vediamo e volevo aprire questa nuova stagione con una recensione dei filati della mia amica Francesca Italia Artisan, merceria Italia Artisan. Voi sapete che io mi rifornisco da lei sia per quanto riguarda i filati AIS Alotti, quindi Italia Artisan Yarns provenienti dalla Turchia, la vendita di merceria al dettaglio e quindi qualcosa a marchio AIS ma anche molti molti altri marchi molto molto belli e apprezzati come Drops, come Sheepies, come Adesso questa bellissima lana Spickled, la Montreal, insomma questi sono alcuni dei gomitoli che ho qua oggi, ovviamente appartenenti a vari marchi che andiamo a conoscere insieme, quindi adesso insieme vi farò vedere quello che ho acquistato e vi darò qualche caratteristica tecnica nel caso voi, scusate, vogliate acquistare. Quindi partiamo subito. Il primo filato che vi mostro è questa bellissima Cotton Merino a marchio Drops. Come potremo leggere sul gomitolo c'è scritto Superwash Your For All Seasons. Che cosa significa? Che è un filato Superwash adatto a tutte le stagioni. In pratica questa Cotton Merino ha un'anima di lana ed è rivestita, quindi di cotone. Adattissima per bambini e adulti, adattissima a chi ha difficoltà di indossare la lana perché magari ha una pelle più sensibile e io ce l'ho in queste due colorazioni stupende. Sono per l'appunto, allora questo che vedete di qui è il colore 26, lavaggio a 40 gradi, consigliato, io direi ferri 3, 3,5 anche 4, qui non me li dice, sì me li dice, ecco qua c'è tutto. Allora, 50 grammi per 110 metri, 50% lana, 50% cotone. Infatti, uncinetto consigliato 4 mm, proprio come sospettavo. Poi voi sapete che comunque ogni filato va lavorato molto dipende dalla mano, quindi sì, io terrei come riferimento quello che dice il gomitolo, ma poi provate, fate il campioncino e vedete cosa è meglio per voi. Quindi lavorarlo con una mano più stretta e quindi una lavorazione più ariosa richiederà un uncinetto maggiore, di misura maggiore. Se avete una mano larga e volete una cosa più compatta, magari vi serve un uncinetto più piccino, quindi poi i riferimenti dell'uncinetto sono sempre molto soggettivi. Mentre questo bellissimo grigio è il colore 20, sempre stesso, cambia il colore ma le caratteristiche sono le medesime in quanto stesso prodotto. Bellissimo, marchio Drops, un marchio che a me piace moltissimo e con questo ci faremo sicuramente qualcosa di veramente molto carino. Ecco qui un altro bellissimo gomitolo, bellissimo. Allora, a marchio Shipies, si chiama Stardust e Stardust polvere di stelle e infatti lo vedrete, io non so se la luce consente di vedere, ma ha dentro il lurex in modo particolare, nel senso che non è il solito lurex avvolto nel filato, ma ha queste, vedete, queste pagliuzze che fuoriescono qui e là che proprio fa sembrare proprio polvere di stelle, come viene chiamata dal marchio. Vi do subito le caratteristiche, questo è un bel gomitolone importante, 100 grammi sono 540 metri, ferri e uncinetto consigliati 3,3,5, anche questo lavaggio a mano, 30 gradi, quindi comunque va trattato con cura perché è un filato molto pregiato. Ora vi dico che è 11% mohair, 11% lana, 75% premium acrilico e 3% filo metallico poliestere. In pratica il poliestere non è altro che queste pagliuzze, diciamo, la polvere di stelle, ecco, giusto per rimanere col nome corretto. Quindi io ho questo bellissimo colore che è un bianco pendente un po' al panna, non è proprio bianco bianco, quindi un bianco piuttosto sporco e come colore è il 652, vi dico anche il colore nel caso vi interessi proprio lo stesso filato dello stesso colore. Ci sono anche tanti altri colori, io lo trovo veramente molto molto bello, io spero che si veda il luccichio perché purtroppo con le luci a volte il luccichio non si vede, però io spero veramente che voi possiate apprezzarne veramente il luccichio perché è fantastico, quindi passiamo al prossimo filato e lasciamo il nostro shipis stardust. Ecco qui la nostra lana a fiamma, io ve l'ho lasciato nel sacchetto questo per farvi vedere che quando vi arriva avrà uno scoccino qui e il filato potrà essere estratto facilmente dal centro tirandolo senza aprire la carta. C'è questo metodo diciamo che è molto molto comodo per non farvi estrarre il gomitolo e quindi se non avete un porta gomitolo vi permette di tenerlo anche sul pavimento vicino a voi dove state lavorando senza che si sporchi o rotoli il gomitolo in giro per la casa. Vedete c'è proprio il centro facile, allora questo filato si chiama fiamma, è un 100% acrilico, naturalmente parliamo sempre di acrilici premium, quindi acrilici non duri, non trattati in modo da renderli anche brutti a volte. Diciamo che è un bellissimo acrilico, con questo ci farò il prossimo tutorial, una cosa già invernale perché ho deciso comunque di partire con la stagione invernale, l'estate ormai è andata e quindi partiamo con direttamente autunno-inverno. Quindi filati un po' più caldi, filati un po' più adatti magari invece alla mezza stagione, questo è un filato un po' più caldo. Come vedete è un filato grosso, grossino, io lo sto lavorando con uncinetto numero 5 ma viene comunque per la mia mano con uncinetto 5 una lavorazione abbastanza ariosa. Quindi anche per le mie amiche burrose che hanno un po' paura a mettersi adosso filati un po' più pesantini e più grossi, questo lavorato in maniera ariosa è assolutamente adatto anche alle taglie, come dico io, burrosette. Allora vediamo, la nostra cake è da 150 grammi per 435 metri, qui infatti dice ferri 4-5, lavaggio a 30 gradi, allora io non lavo mai niente inferiore ai 40, io di solito butto in lavatrice, non l'ho ancora testato ma io penso che questo possa anche, ripeto tra virgolette, non l'ho ancora testato ma il lavatrice con lavaggi delicati possa essere tranquillamente messo. Ovviamente poi durante la lavorazione e quando avrò testato vi saprò dire meglio, però è un bellissimo filato. La colorazione è stupenda, guardate, io infatti il prossimo tutorial avrà un nome molto autunnale perché vedete questi sono i classici colori delle foglie in autunno, quindi questi colori di ocra, marrone, ma screziato. Comunque vedete che il filo non è monocolore ma è ritorto con varie tonalità, quindi spero che anche qui la telecamera renda giustizia al colore, è molto molto bello. Questo sarà il protagonista del prossimo progetto, poi vi saprò dire meglio al momento del tutorial le quantità e tutto quanto. Non so se è ancora disponibile questa colorazione ma nel caso io vi dico che questo è il colore 1, quindi vi dico che è prodotto in Europa e qua ovviamente c'è scritto che è 100% acrilico, poi ci sono le varie voci. Molto molto bello, questo era il filato fiamma a marchio 3 sfere. Un altro filato per la stagione invernale che sta arrivando è questo e io questo voglio proprio provarlo perché difficilmente uso la pura lana, ma questa è una pura lana sofficissima. Allora, di questo vorrei dire una cosa, essendo pura lana sicuramente è meno soffice, è un po' più rubido al tatto del filato fiamma che vi ho fatto vedere poc'anzi, perché comunque gli acrilici vengono trattati in modo da essere leggermente più morbidi. Mentre la pura lana si può lavorare ma non trattare nei medesimi modi e di conseguenza rimane, ovviamente se non una fibra naturale, rimane comunque con una consistenza diversa dall'acrilico. E' comunque sofficissimo perché vedete se io lo stringo in mano si vede che è soffice, però ha una consistenza diversa, certamente per chi è abituato agli acrilici lo troverà un po' asciutto come filato, un po' non secco ma proprio asciutto. Rimane così molto molto anche non lucido, proprio perché viene trattato pochissimo. Oltretutto questa lana speakled, spero di pronunciarlo bene, è stampato con metodo manuale, quindi stampato con i vecchi metodi, non con le macchine, quindi le colorazioni possono non ripetersi precisamente nello stesso modo, quindi non abbiamo tonalità di colore che si vanno a ripetere nello stesso medesimo modo e essendo tinto a mano, secondo me ogni gomitolo è abbastanza unico. Ora vi dico che questo filato si lavora con ferro e uncinetto dal 4 al 5 e poi ripende sempre dalla mano, vi dico che è prodotto anch'esso da 3 sfere. 100 grammi sono 190 metri e come ho detto prima è pura lana. Anche questo filato sarà protagonista del nostro autunno-inverno. Ecco qui un'altra meraviglia e questo invece è molto liscio come filato, è molto morbido. È un 100% premium acrilico. Lana Monreal, allora anche questo prodotto da 3 sfere, nello specifico questo colore è il numero 44, sono 80 grammi per 280 metri, quindi una metratura abbastanza importante, ferro e uncinetto dal 3,5 al 4, ripeto sempre dipende dalla mano, sempre lavaggio a mano a 30 gradi, questo va, dovete un po' testarlo, io, ripeto, non lavo quasi mai niente a mano, metto tutto il lavatrice magari con il lavaggio delicati. Preso di questa colorazione che va dal viola, vedete, all'orchidea, al giallo, è molto molto bello, vedete qua c'è un po' di viola che tende un po' più al blu, è veramente un filato sofficissimo ed era questo che intendevo prima, vedete che è un po' più luminoso della pura lana che vi ho fatto vedere prima perché comunque subisce dei trattamenti, assolutamente tutto nelle norme igieniche, quindi comunque trattamenti che non sono dannosi per la pelle e tinte che non sono dannose per la pelle e questo io lo vedo veramente adatto anche per maglioncini da bimbi perché è veramente molto molto soffice e non tanto pelosetto. Vediamo che il filato ha questa particolarità lì, non essere proprio regolare, vedete che in alcuni punti diventa quasi un pelino più sottile ed è molto molto bello questo filato, anche questo protagonista dei nostri inverni, sempre merceria Italia Artisan Questa meraviglia l'ho voluta lasciare per ultima anche se non è ultima a niente perché è una meraviglia con le sue sfumature, è la versione invernale della nostra, del marchio Sheepies le cakes che avete già conosciuto in un'altra recensione, che erano di cotone questa invece si chiama Wully Whirl ed è, adesso ve lo dico subito, 70% cotone e 30% lana ogni cakes è da 15-225 grammi, quindi circa, per mille metri quindi mille metri ci potete fare veramente tantissimo con mille metri ci potete fare una stola grandissima che dovrebbe avere il nome da qualche parte e se riesco a trovarlo, ve lo dico, ha dei colori veramente, dei nomi di colori veramente belli e penso che sia questo, Bubblelicious, però non sono sicura che sia questo il nome comunque il colore è 474, nel caso non vi fidiate del nome e anche io non mi fido perché non so esattamente se ho letto la cosa giusta allora, ferri e uncinetto 3,5-4 e secondo me ci sta, lavaggio sempre a 40 gradi si può stirare, non si può centrifugare, insomma ci sono tutte le caratteristiche poi se io sono un po' vaga con alcune caratteristiche se andate sullo shop Merceria Italia Artisan trovate tutte le caratteristiche tecniche di ogni filato io ovviamente vi faccio vedere i miei acquisti per darvi una carrellata e dirvi più o meno quali sono le mie impressioni poi ovviamente voi al momento dell'acquisto potete leggere tutte le caratteristiche sotto ogni filato c'è scritto tutto quindi non avrete poi incognite la mia amica Francesca è anche molto gentile quindi risponde a tutte le vostre domande vi lascerò poi tutti i link sotto in descrizione dei prodotti sono tutti fantastici, veramente io mi trovo benissimo quindi adesso prendo tutti i miei gomitoli e intanto li appoggio qui perché sono una meraviglia ho perso un uncinetto per terra ma non importa metto qua tutti i miei filati che sono una meraviglia non ci stanno neanche tutti nell'inquadratura mi dispiace ma sono veramente uno spettacolo questi filati io vi do appuntamento al prossimo video tutorial alla prossima recensione intanto vi saluto vi invito a venirmi a trovare sul gruppo facebook creando e chiacchierando con Luci vi invito ad andare a visitare lo shop Merceria Italia Artisan e a toccare con mano questi bellissimi filati vi mando un bacione grande ciao ciao da Luci al prossimo tutorial a presto, ciao!